Per me riproporre un escluso di qualche sacco, la nascita delle piscine di Acqui, la data di inaugurazione ad arrivare oggi, è veramente qualcosa di fantastico e importante per la nostra città. Allora, inizialmente, non ci restate, si pensava addirittura che questa piscina, che su tutte le processi che ci sono state per i termini di Acqui, non si aprisse. Per volontà dell'amministrazione, si è arrivati ad un bar di gara e devo dire che tutto è stato utile. Le ringrazio il team Acqui Cule, composto qui dal gruppo di città, con ottimi risultati, perché so che parecchie volte, la domenica, ho detto che c'è la notizia d'aurito, c'è un po' di cartelli che hanno avuto. Ho cercato, in questi anni, di raccogliere testimonianze, dentro quelle orali, poi quelle scritte, poi quelle documentali, per, in qualche maniera, poter, sotto varie forme, oggi abbiamo quella mediatica, il gruppo di mediatica, trasmettere alle future generazioni. La piscina, la conosciamo tutti, ci siamo tutti, con molto orgoglio, quando eravamo ragazzi, fatti bella, un grande Europa, è vero, era molto grave, non so se a qualità abbiamo ancora questo primato, nessuno è in ragazzo e noi ce la consideriamo ancora la più grande, ecco, benissima. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.